spero un periodo così dun passarlo mai più rinchiuso in casa un tre donne a giocare a tabù poi guardo fuori e vedo c'è chi se ne frega e ora ne sono convinto un capito e una sega che avete da fa d'urgente che non può aspettà tutti in fila per fare la spesa dieci volte corcane appiscià siete stati una vita ad andare dal letto al divano e fissi a mangià ora se non vi fanno andare a correre in viata a smattà non mi sembra una cosa difficile poi da capire non devi usci o a natale siamo sempre vi io capisco che sia noioso un sapere cosa fa dai prova a tromba ma smetti d'andagirà nessuno si salva da solo se va in giro potresti ammazzà i tu nonni e chissà magari anche tu pa e tu ma ora è talmente semplice da capire che l'ho capito anch'io non esistono posti isolati che che vai a correre in mezzo al bosco e pensi di essere solo ci potrebbe essere altro che pensa di essere solo anche lui che va a correre potrebbe essere uno che pensa di essere solo a far sparaggi per cui soli la sicurezza ci sa solo se avete il giardino di una villa privata e ci state voi e basta l'avete uso a me qualcuno trabacchi il muro siete soli se no solo non c'è nulla poi se qualcuno pensa di essere superman fate una prova vi mettete le mutande sul pigiama vi buttate da tre piani se volate avete ragione voi se no si è levato un cretino dal giro buongiorno